Le operazioni di modifica dell'account AdWords non devono richiedere molto del tuo tempo. Ora puoi apportare modifiche alle offerte, alle parole chiave e ad altre parti del tuo account molto più rapidamente. Supponiamo che una delle tue parole chiave ottenga un alto numero di impressioni, ma un numero ridotto di click, con una posizione media pari a 3,4. Decidi di provare ad aumentare l'offerta per migliorare ulteriormente la posizione. Fai click sull'offerta desiderata, quindi la modifichi direttamente dalla scheda delle parole chiave. Hai impostato la parola chiave come corrispondenza generica, di conseguenza il tuo annuncio sta ricevendo un traffico che non è pertinente quanto vorresti. Per rendere la tua parola chiave più mirata, fai click sulla parola chiave, la imposti come corrispondenza frase e salvi. Decidi di provare lo stesso importo dell'offerta per alcune altre parole chiave nel tuo gruppo di annunci, dal momento che anche queste non ottengono un numero di impressioni sufficiente. Selezioni tre parole chiave e fai click su Modifica. Inserisci la tua offerta e poi, con un singolo click sull'icona che appare, applichi la stessa modifica a tutte e tre le parole chiave contemporaneamente. E poi salvi.